A Vittoria è caos sulle borse lavoro. Nonostante ci sia un regolamento ci sono state alcune anomalie nell'assegnazione dei contributi. A farle emergere la Commissione Trasparenza che si è riunita ieri. Sentiamo. Criteri non univogi nella redazione delle gradatorie. Chiediamo venga fatta subito chiarezza provvedendo immediatamente alla redazione di una nuova gradatoria. E questa è la richiesta che arriva da parte del consigliere comunale del PDL di Vittoria Andrea Nicosia in merito alle borse lavoro. E la questione è stata affrontata in Commissione Trasparenza ieri. Numerose sono state le anomalie riscontrate nella redazione delle gradatorie. Le anomalie, fa sapere Nicosia, hanno riguardato i criteri utilizzati per stilare questo elenco, che innanzitutto non sono stati quelli individuati dalla delibera di giunta. Altre anomalie erano state segnalate già nel novembre scorso quando la Commissione richiese di rifare una nuova gradatoria alla luce delle indicazioni della Commissione stessa. Riteniamo gravissimo quanto avvenuto dichiara Nicosia, ma ancora più grave lo scarica barile con cui questa giunta si giustifica. Chi si è accertato della correttezza delle operazioni? Chi è diretto e controllato le operazioni? Quella delle borse lavoro è una questione che ci portiamo dietro da tempo. Già noi avevamo un anno fa, continua Nicosia, presentato un'interrogazione per capire con quali criteri fossero individuati i soggetti beneficiari. A fare equa alle dichiarazioni di Nicosia anche il consigliere di SEL, Mariella Garofalo. Per ben due volte sono state redatte sempre in maniera errata. Nella pratica sostiene la Garofalo, si è fatta confusione sull'anno di riferimento 2010-2011 e tra Ise ed Isee. Risultato circa 70 incarichi assegnati e forse alcune di queste persone non ne hanno diritto. Di fronte a questi fatti, proseguo ancora l'esponente di SEL, è stupefacente l'innocenza dell'assessore alla trasparenza Guerrieri che candidamente ribalta la responsabilità del mancato controllo sull'assessore Caruano, il quale a sua volta rimanda al mittente le stesse accuse. Alla faccia della trasparenza e della legalità al comune di Vittoria e le risorse pubbliche vengono spese con una gradatoria che ha al suo interno molte incongruenze. I cittadini vogliono chiarezza e vogliono che l'amministrazione controlli e garantisca la corretta erogazione di questi contributi sociali. Al comune di Ragusa si pensa a risparmiare. A farlo sono stati dapprima il presidente del civico Consesso Giuseppe Di Noia e poi il capogruppo del PID Giorgio Mirabella. Proposte utili o solo populismo? Sentiamo. Ridurre il numero delle commissioni consigliari da sei a tre. Questa è la proposta avanzata dal capogruppo del PID in Consiglio Comunale a Ragusa, Giorgio Mirabella. L'intento sarebbe quello di risparmiare svariate decine di migliaia di euro. La proposta di Mirabella fa eco alle considerazioni espresse qualche giorno fa dal presidente del civico Consesso, Pino Di Noia, in merito ai dati diffusi dal Censis. Ritengo che la politica debba fare qualcosa, anche con piccoli segnali, stabilendo di ritagliarsi delle somme da mettere a disposizione nel contesto di situazioni difficili, a volte disperate, aveva detto Di Noia. Su come farlo però nessuna proposta del presidente. Ma oggi l'idea parebbe essere arrivata da Mirabella, ridurre le commissioni. Questi organi, lo ricordiamo, sono composti da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi presenti in consiglio. A Ragusa ci sono sei commissioni, composte ciascuna da undici consiglieri. È il presidente dell'organo a convocare una seduta, fissando l'argomento da trattare. Ogni commissione in un mese si incontra mediamente tre, quattro volte per un tempo indeterminato, che in genere si riduce al massimo ad un'ora. Per ogni riunione, indipendentemente da quanto duri, ai consiglieri va naturalmente il gettone di presenza. Fatti due conti sarebbero dunque undici consiglieri per sei commissioni per quattro volte al mese. Ma tornando alla proposta di Mirabella, il capogruppo suggerisce di ridurre il numero di commissioni da sei a tre. Che ben venga, peccato però che per farlo sia necessaria una modifica del regolamento del Consiglio Comunale, cioè incontri su incontri, pareri su pareri, insomma tempo su tempo e naturalmente denaro su denaro. Perché allora non intervenire in altro modo? Perché infatti non accorpare gli argomenti da trattare in una, massimo due commissioni al mese? Magari invece di un'ora i consiglieri potrebbero impegnare più tempo, così facendo avrebbero un solo gettone di presenza ma discuterebbero di più argomenti. Ma chissà se i consiglieri sarebbero d'accordo con questa proposta? Ma quanto producono poi realmente questi organi? Perché non rendere pubblici, magari pubblicandoli sul sito del Comune, i verbali di questi incontri in modo da sapere chi è presente, chi no, chi interviene sull'argomento e chi invece riscalda la sedia, chi è presente sin dall'inizio della seduta e chi invece arriva in ritardo, intascandosi sempre al gettone di presenza. Insomma ok con le proposte ma che siano meno populiste, più concrete, ragionate e fattive, oltre alle parole che la politica torni a pensare ai risultati. Continua l'occupazione del liceo artistico di Comiso. I ragazzi da tre giorni sono dentro la scuola ed hanno avviato diverse iniziative come laboratori e seminari. Terzo giorno di occupazione per gli studenti dell'istituto liceo Salvatore Fiume di Comiso. Dopo le prime due giornate si avviano nuove iniziative all'interno della scuola, volte a dare spessore a questa pacifica protesta. Da tempo i ragazzi denunciano l'aggravazienza dei corsi di recupero o di potenziamento, strumento necessario per il conseguimento del loro percorso formativo. Proprio per portare all'attenzione tale tematica sono stati avviati in questi giorni dei laboratori di matematica, chimica, inglese e storia dell'arte in cogestione con i docenti che sono stati solidali con le rivendicazioni dei ragazzi. Inoltre sono stati attivati dei seminari autogestiti su tematiche come la globalizzazione che spesso vengono lasciate fuori dalla scuola ma che i ragazzi ritengono importanti per la formazione del cittadino e del domani. Infine gli studenti denunciano la proposta del ministro Profumo sull'esenzione del Limo alle scuole private che ancora una volta sono agevolate a discapito di quella statale. Con grande responsabilità e consapevolezza per la protesta difesa di una scuola pubblica e di qualità i ragazzi stanno continuando ad occupare ad oltranza l'istituto per fare sentire la loro voce. E restiamo a Comiso, presepe vivente alla scuola Monserrato. Questa mattina i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono stati protagonisti del presepe mettendo in scena gli antichi mestieri e naturalmente la natività. presepe vivente alla scuola Monserrato di Comiso. Protagonisti sono stati piccoli alunni della scuola primaria e dell'infanzia San Giovanni Bosco. Nel corridoio dell'istituto i bambini hanno fatto rivivere gli antichi mestieri di una volta, dal falegname al calzolaio, dalle lavandaie ai pastori, senza dimenticare le ricamatrici e la taverna. Naturalmente non potevano mancare gli angeli e la grotta con la sacra famiglia. Un lavoro durato diverse settimane che ha visto insieme i bambini, gli insegnanti e i genitori che si sono impegnati per realizzare la scenografia e i costumi e per ricostruire tutti gli ambienti. I docenti hanno lavorato con tutto il cuore ma a parte questo la gioia infinita è quella di aver avuto accanto a noi i genitori che non si sono per niente risparmiati, hanno fatto di tutto e quindi il plauso e l'encomio va a tutti loro perché ci sono stati tanto vicini, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello della collaborazione e della partecipazione al processo formativo dei loro figli, quindi che sia per tutti noi e per tutti loro un santo Natale nella gioia, nella pace e nella serenità specialmente per tutte le famiglie, glielo auguro di cuore. Ma non solo il presepe vivente, questa mattina è stata inaugurata anche una mostra di presepi realizzati dai bambini di tutte le classi della scuola primaria Monzerrato. La mostra rimarrà aperta fino al 21 dicembre mentre martedì 18 ci sarà la premiazione di quelli più belli al teatro Naselli. I bambini si sono sbizzarriti con la fantasia realizzando il proprio presepe con i materiali più variegati. Hanno realizzato veramente dei capolavori e abbiamo una commissione con dei docenti anche della scuola media, docenti di artistica, di musica, di tecnica, l'assessore e altre personalità per vedere un pochino di assegnare i premi, ma io credo che il va a tutti loro perché ciascuno ha lavorato, ha dato il meglio di sé e ogni presepe è veramente un capolavoro. E domani come sapete si festeggia Santa Lucia. A Comiso la tradizione vuole che oggi ci sia il rito del lancio delle noccioline, un'usanza che va avanti dal primo dopoguerra e che ancora oggi si rinnova. Proprio mentre andiamo in onda dal balcone della sagrestia della chiesa di Santa Maria delle Stelle in via San Biagio c'è il lancio delle noccioline. Nell'edizione di stasera vi proporremo il servizio con l'intervista a padre Baionetta che ci ha spiegato le origini di questa tradizione. Data particolare quella di oggi 12-12-2012 tra profezie e simbolismo cosa c'è dietro questa data? Sentiamo. Giornata dell'interconnessione. Questo mercoledì di dicembre sarà ricordato con questo termine. A renderlo tanto particolare la sua data 12-12-12. Già il numero 12 da solo fa andare in estasi gli appassionati di simbolismo che lo considerano il più sacro dei numeri. Il fatto che sia ripetuto tre volte rende quella di oggi una giornata veramente unica. Per gli studiosi di esoterismo infatti oggi si aprirà un portale di energia in grado di purificare l'anima. Ma perché il numero 12 è così particolare? Diversi sono i richiami simbolici a questa cifra. Nella mitologia greca 12 sono gli dei principali del monte Olimpo, 12 sono i figli di Giacobbe, le tribù di Israele e gli apostoli di Gesù, 12 sono poi i mesi dell'anno e i segni dello ziodiaco, il nostro corpo ha 12 paia di nervi cranici e di costole e 12 vertebre toraciche. Ma il 12 è un numero importante anche per l'Europa. Tante sono infatti le stelle dorate disposte in cerchio su campo blu. E per non farci mancare niente anche il Papa oggi darà il suo contributo per fare passare questa giornata nella storia. Dalle ore 12 infatti Benedetto XVI sarà su Twitter. Ma oggi anche il giorno in cui l'asteroide Tautatis passerà vicino alla Terra a soli 6,9 milioni di chilometri di distanza rendendosi visibile, nessuna paura secondo gli scienziati, la Terra non sarà colpita ma qualcuno si preoccupa un po'. Se il passaggio di Tautatis fosse l'anticipazione di ciò che accadrà il 21 dicembre prossimo, giorno della fine del mondo secondo Imaia, in fondo provate un po' a leggere il numero 12 al contrario, ne esce fuori un bel 21 e la profezia si avvicina. Ed è tutto per questa edizione. In chiusura vi ricordo che oggi alle 15.20, 17.40 e 21, andrà in onda una nuova puntata di 15 minuti con l'ospite di oggi il dottore Gaetano Gintoli, responsabile dell'attività operativa Randagismo dell'Aspe di Ragusa. Continuate a seguirci anche sul nostro sito all'indirizzo fritvonline1.it e sulla nostra pagina Facebook fritv.comiso. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.